L'io molto spesso gioca dei brutti scherzi. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, la ricerca nell'ombra. Massimo Volevo aggiungere qualche cosa a proposito dei figli, per mettervi sull'avviso e ricordarvi di stare bene attenti a come vi comportate con essi, perché anche in questo caso l'io molto spesso gioca dei brutti scherzi. E' molto facile infatti, come vi era stato già detto, vedere nei figli una continuazione del proprio io e quindi molto spesso si tende a pretendere da essi che facciano tutto ciò che non si è stati in grado di fare e può accadere che tutti quei sacrifici di cui parlava poco fa Federico non siano fatti così spassionatamente, ma che alla base di essi esista un forte bisogno egoistico. Accade molto spesso, ad esempio, che un individuo sia molto orgoglioso del fatto che il proprio figlio studi e magari frequenti un corso di lauree all'università e riponga molte speranze e aspettative dagli esiti di questo sacrificio, anche perché mantenere un figlio all'università in molti casi è un compito gravoso. Poi, di punto in bianco, per una scelta personale, questo ragazzo non si sente di continuare e di andare avanti negli studi. Questa situazione è molto frequente, non stiamo certamente ad analizzare in questa sede le motivazioni che spingono molti giovani ad abbandonare le aule dell'università ed essa arreica in genere un grande dolore nei genitori che vedono in questa azione sfumare tutte le loro speranze. Al di là del fatto che questo dolore possa essere motivato da vari tipi di preoccupazione circa il futuro del giovane in questione, è purtroppo molto frequente che questa reazione sia motivata da una reazione dell'io, proprio perché l'io del genitore si sente ferito dalla ingratitudine dimostrata dal figlio nei confronti degli sforzi e dei sacrifici compiuti per mantenerlo agli studi, poi perché in questo modo il motivo di orgoglio si è sciolto improvvisamente come neve al sole, poi perché non potrà più far mostra delle capacità del proprio figlio, capacità che sente sue come suo sente quel figlio, e così via sotto altre sfaccettature che tutte inevitabilmente conducono ad un'unica conclusione, quella cioè di un io forte che cerca una gratificazione indiretta a spese di altri. Lo stesso discorso lo si potrebbe adattare ai figli dei propri figli, che rappresentano una doppia fonte di orgoglio, ma non mi sto a dilungare su questo, perché immagino che da soli, dopo quanto detto precedentemente, immaginiate dove voglio andare a parare. Il genitore consapevole e maturo dunque non dovrebbe pretendere mai nulla dal proprio figlio e, ancora prima di considerarlo il proprio figlio, dovrebbe ricordarsi che egli è un individuo che come tale ha delle esigenze, dei bisogni da rispettare e soddisfare. È vero che è stato detto che un individuo quando si assume la responsabilità di essere genitore deve assumersela fino in fondo, anche quando i figli non sono più bambini ed è quindi giusto che segua, consigli, indirizzi la propria creatura. Ma ciò che assolutamente non dovrebbe mai fare è star male, sentirsi distrutto quando il proprio figlio compie una scelta consapevole che cozza contro le aspettative del suo genitore. State attenti al vostro io nel corso dei rapporti con i vostri figli perché non vi è nulla di peggio come sofferenza che restare delusi da ciò che con tanto amore si è cullato, curato, seguito, fatto crescere. Abbandonate la possessività nei loro confronti perché essi non sono vostri ma appartengono soltanto a se stessi anche se quando erano piccoli bisognosi di cure, indifesi, incapaci di agire vi hanno dato l'illusione di essere a voi legati per sempre.